Musica Considerato l'incremento di casi positivi di coronavirus a Foggia, il sindaco Landella, in vista del weekend, ha emanato un'ordinanza con cui dispone l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto dal 25 settembre nelle aree a maggiore vocazione aggregativa del centro di Foggia, interessate dalla presenza di pubblici esercizi e attività commerciali e dove è più facile che si formino assembramenti e non è possibile garantire il rispetto delle norme sul distanziamento sociale. Inoltre è stata disposta la chiusura al pubblico nelle giornate domenicali e nelle giornate festive infrasettimanali dei grandi centri commerciali del territorio foggiano, Mongolfiera e Grandapulia, chiusura che entra in vigore da domenica 27 settembre fino a nuova disposizione. Musica Giovedì 24 settembre in Puglia sono stati registrati 4123 test per l'infezione da coronavirus e sono stati rilevati 73 casi positivi, 37 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 5 nella provincia Abat, 19 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto e sono stati registrati 3 decessi, 2 in provincia di Bari, 1 in provincia di Taranto. A Lucera sono attualmente 16 i casi positivi, uno dei quali versa in condizioni più gravi di salute, gli altri sono in buone condizioni. Dall'inizio delle emergenze in Puglia sono 4.455 i pazienti guariti, 2.263 i casi attualmente positivi. Musica L'Università di Foggia e AIFAN, associazione di promozione sociale di genitori di figli con autismo e disturbi psicosensoriali, hanno deciso di avviare un percorso per la creazione di uno spin-off universitario che favorirà la formazione e la ricerca nell'ambito dell'autismo, creerà servizi e terapie per le persone con autismo e disturbi psicosensoriali e offrirà sostegno alle famiglie. I professori che stanno lavorando al progetto sono Ezio Del Gottardo, Grazia Terrone e Maria Concetta Rossiello. Ad affiancarli e a seguire la creazione dello spin-off ci sarà un board scientifico costituito da esperti. L'Università di Foggia, attraverso alcuni suoi specifici insegnamenti, è da sempre attenta a queste tematiche, afferma il professor Pierpaolo Limone, rettore dell'Università di Foggia. Abbiamo da subito accolto l'iniziativa dell'associazione AIFAN perché siamo consapevoli che dotare la città di una struttura come questa significa riuscire a dare supporto immediato a chi si trova di fronte a una diagnosi legata alle problematiche psicosensoriali e non sa cosa fare. Il professor Limone ha proseguito in questi casi un aiuto precoce, competente e indispensabile per offrire supporto e dare risposte capaci di aiutare i piccoli protagonisti a diventare giovani adulti inseriti nella società. Si gioca domenica 27 settembre la gara di ritorno della Coppa Italia di promozione. Lucera Calcio, reduce dal pareggio esterno di 1 a 1 con lo Sporting Apricena, giocherà lo stadio comunale di Lucera alle 15.30. Alla stessa ora sull'ex campo della FIGICI a Foggia in programma l'incontro tra il Foggia in Cedit e il Canosa. La formazione foggiana ha vinto di misura la gara di andata domenica scorsa. In attesa dell'inizio dei campionati si attende l'approvazione di un nuovo protocollo del calcio di lettanti che dovrebbe avere nuove regole anche per quanto riguarda il pubblico. Il protocollo, dopo essere stato approvato all'unanimità da tutti i presidenti delle regioni, verrà sottoposto venerdì al Comitato Tecnico Scientifico per la riapertura graduale in sicurezza di tutte le competizioni sportive, non solo del calcio. Obiettivo è riavere i tifosi negli impianti sportivi. Grazie!